Tu e io, Robert, abbiamo osservato la storia e ora siamo dentro la storia. Vi è piaciuto il codice da Vinci? Bene, nel romanzo di Dan Brown a un certo punto si racconta come nella biblioteca di astronomia della specola vaticana di Castel Gandolfo siano conservate, tra l'altro, opere rare di Copernico, Galileo, Kepler e Newton. Nell'edizione inglese originale del codice da Vinci, assieme a questi nomi universalmente noti, compare anche quello di Secchi, padre Angelo Secchi, un gesuita che nell'Ottocento diventò famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, tra cui l'astrofisica, della quale si può considerare tra i fondatori. Per imediare in parte all'oblio nazionale sulla sua straordinaria figura, un convegno di due giorni a Reggio Emilia, città nella quale Secchi vide i Natali il 29 giugno di 200 anni fa, ha idealmente inaugurato la serie di iniziative a livello nazionale previste appunto per il bicentenario della nascita. Ci sono figure nella storia dell'astronomia italiana che sono molto conosciute per i contributi che hanno dato, uno per tutti il nome di Galileo che è universalmente conosciuto, ma anche astronomi più recenti nell'Ottocento come la figura di Schiaparelli che è anche molto conosciuta per i suoi contributi sugli studi del pianeta Marte. Ci sono invece figure che sono rimaste un po' sullo sfondo, che magari hanno conosciuto una grande popolarità nel periodo in cui hanno vissuto e di cui è rimasta grande memoria anche all'estero, ma che forse in Italia sono rimaste un po' sullo sfondo poco conosciute. Sicuramente una di queste figure è quella di Angelo Secchi che in tutti i libri di storia dell'astronomia scritti fuori dall'Italia è ricordato come uno dei pionieri dell'astrofisica, uno dei fondatori di questa nuova disciplina che nasce dall'applicazione della fisica all'astronomia. Ebbene di questa figura un po' si sono perse le tracce, si sono perse le tracce ma in realtà la figura di Secchi è una figura estremamente interessante ed estremamente moderna, soprattutto perché è un uomo che si è trovato all'interfaccia tra due mondi, era uno scienziato ma era anche un gesuita e si è trovato all'interfaccia tra due mondi che spesso si sono guardati con diffidenza l'uno con l'altro, il mondo della scienza e il mondo della fede. Secchi è riuscito a coniugare il suo essere scienziato con il suo essere gesuita in maniera moderna ed esemplare. Secchi fu un innovatore eccezionale in diverse discipline scientifiche, modernissimo ad esempio fu il suo approccio alla meteorologia. Lui applicò per primo le teorie della dinamica dell'atmosfera che aveva preso in America con la frequentazione di Murray e organizzò la prima corrispondenza telegrafica meteorologica nello stato pontificio nel 1855 e questo portò veramente una grande innovazione perché lui si rese conto subito che misurare le grandezze meteorologiche, quindi la pressione in particolare contemporaneamente in maniera sincrona in diversi punti di osservazione poteva permettere di prevedere le burrasche e quindi prevedere anche i possibili rischi e in questo c'è anche una visione modernissima che è quella della importanza del servizio di protezione civile e tra le altre cose inventò anche uno strumento che nella sua mente doveva assolutamente aiutare a misurare in maniera sincrona tutte le grandezze meteorologiche ed è il meteorografo che però era talmente tanto sofisticato, talmente tanto importante e grande come strumento che aveva naturalmente un costo notevole e purtroppo non ebbe la diffusione che lui sperava potesse avere però sicuramente possiamo definirlo il prototipo delle moderne stazioni meteorologiche assolutamente grazie per l'attenzione